Musica Lunedì 15 gennaio, buongiorno, buon inizio di settimana e benvenuti all'attimo appuntamento con la nostra informazione. Fine settimana di controlli straordinari dei carabinieri della compagnia a Campobasso. Abbiamo osservato speciale il centro storico per contrastare il fenomeno dello spaccio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Il servizio di Anna Maria Di Matteo. Rafforzare la sicurezza in città e al tempo stesso contrastare il fenomeno dello spaccio in costante aumento soprattutto tra i giovanissimi. I carabinieri della compagnia di Campobasso hanno intensificato i controlli sul capoluogo soprattutto nel fine settimana. Osservate speciali le zone del centro storico Villa Flora, Via Palombo. Qui i carabinieri hanno messo in atto un'operazione straordinaria nel corso della quale sono stati identificati diversi giovani consentendo di intervenire direttamente sul fenomeno dello spaccio ma al tempo stesso di verificare l'identità di numerosi cittadini extracomunitari che arrivano a Campobasso. Al termine dei controlli il bilancio parla di un giovane immigrato segnalato per detenzione di una modica quantità di hashish e il controllo di numerosi giovani. Al di là dell'esito delle verifiche, il dato che emerge è l'intenzione delle forze dell'ordine di far percepire la loro presenza sul territorio per dare ai cittadini la sensazione di sicurezza. Nei messi precedenti, l'ondata di furti e danni di appartamenti e ville aveva scatenato in città una vera e propria psicosi con i cittadini che avevano organizzato vere e proprie ronde diurne e notturne nei propri quartieri e nelle contrade per tentare di prevenire nuovi furti. Il piano di contrasto messo in atto delle forze dell'ordine tuttavia sembra aver dato i propri frutti. I controlli capillari sul territorio hanno redotto sensibilmente il numero di furti in abitazione ed altri fenomeni di microcriminalità. L'attenzione tuttavia resta alta e polizia e carabinieri chiedono la collaborazione dei cittadini chiamati a segnalare auto o persone sospette in giro per i quartieri. Con la nostra informazione ci fermiamo, adesso uno sguardo ai quotidiani locali e nazionali. Partiamo come sempre dal web, dal giornale del Molise. In evidenza la notizia di cronaca, scontro frontale a Castel di Sangro, muore un molisano. Si parla anche dell'inquinamento nella piana di Venafro, tavolo tecnico nella prefettura di Campobasso. Nel fine settimana, che si è concluso da poco, piste aperte a Campitello Matese, dunque c'è neve. Notizia di cronaca, da Campobasso spaccio controlli straordinari dei carabinieri nel fine settimana. Uno sguardo anche a East News, frontale sulla Fondovalle del Sangro, muore un molisano. L'incidente è a pochi chilometri dal confine con la provincia di Isernia. Sul posto 118 e carabinieri. Guerra allo spaccio di droga, controlli a tappeto in città. C'è una notizia, una foto di Piazza Pepe a Campobasso. Turismo, turismo ferroviario, da quattro anni niente più treni a Carpinone e Isernia. Focus anche sul calcio, serie D. I lupi vincono ancora e restano in vetta alla classifica. Dal web alla carta stampata con primo piano. L'apertura è sulla sanità da curare, scrive il quotidiano. La spinta arriva dalla digitalizzazione. Ottimizzata l'applicazione per gestire le prenotazioni di visite ed esami in autonomia. L'assessore Micone invita a scaricare l'app Molise Salute. Aumenta l'efficienza e la trasparenza del sistema. Tanto novità dietro l'angolo anche per il fascicolo elettronico. e le cartelle cliniche informatizzate. Restando in tema sanitario, ci spostiamo a Palazzo De Immose del Consiglio regionale. Il caso dell'ambulanza finisce in aula, attesa per la risposta da parte del governatore. Grande foto, la stazione di Carpinone, elettrificazione, protesta dell'Associazione dei Treni Storici. È diventata un calvario. Sopralluogo alla stazione di Carpinone chiediamo certezze sui tempi. A fondo pagina, dimensionamento scolastico, docenti, genitori e sindaci contro lo smembramento della Lighieri. Deciderà il Tribunale amministrativo locale. Da termoli, energia pulita per le barche, i lavori previsti al porto turistico. C'è anche un dossier della CGA di Mestre. Crollo del valore reale dell'industria in 15 anni ha perso il 29,2%. La cronaca, Casel di Sangro, strade killer, sessantenne muore in uno frontale sulla Fondovalle. Mentre da Campobasso, lotta allo spaccio, controlli a tappeto dei carabinieri nel cuore della città. Pasquale Damiani firma il punto, no all'abuso d'ufficio, vittoria dei sindaci. In alto i titoli di sport, il calcio, Campobasso, la capolista batte il Matese nella ripresa e vola più 5 sulle seconde. Sempre in Serie D, espluade il Termoli ad Ascoli, il vasto Girardi superato di misura a Sora. Fine, basket e pallavolo, vittoria preziosa per la Magnolia, esultano Spike ed Europea. L'informazione nazionale adesso, si parla prevalentemente delle polemiche per quanto riguarda la politica interna, le elezioni regionali ed europee. Il Corriere della Sera, regionali, si tratta oltranza per l'accordo, tensioni tra alleati, la Lega fa resistenza. Mentre dagli Stati Uniti parte Trump, show e minacce. L'ex presidente in Iowa dice, deportiamo gli illegali. Intanto la Cina a Taiwan, dove si è votato nelle ultime ore, puniremo chi vuole l'indipendenza. Vedete questa foto, una coppia di coniugi, le nozze, il crollo, l'ospedale, la nostra prima notte, non tra le più fortunate. Dunque gli sposi dopo il cedimento del pavimento alla festa noziale. Repubblica, il governo tradisce il Sud, regionalismo e fondi europei. In un anno Meloni chiude gli uffici, fa saltare le zone economiche speciali, taglia 20 miliardi. Boccia del PD dice, faremo le barricate. Tanto baratto tra Fratelli d'Italia e Lega, domani in Senato il DDL Calderoli sull'autonomia. E in commissione comincia l'esame sul premierato. Leggiamo ancora su Repubblica, Durigon, sulle pensioni, cancellare la legge Fornero, costa troppo. Foto centrale, trovata senza vita, la distratrice travolta da una tempesta social. Siamo all'Odi e c'è l'ipotesi suicidio. Continuiamo la rassegna stampa con il quotidiano cattolico a venire, più cura nella cura. Il Papa torna dunque sul tema benedizioni al centro, le persone, non le organizzazioni LGBT. Foto di Biden e Trump, Biden, Trump e company, parte la corsa a ostacoli, aggiunge l'avvenire. Ora vogliono impedire ai pubblici ministeri di trovare prove nei telefonini, così il fatto quotidiano, che aggiunge una porcata al giorno, nuova norma sui cellulari, sequestrati agli indagati. In alto invece, nomine e rimpasto, Meloni, snobba Renzi, lui spara a Del Mastro. Forza Palestina è il titolo in evidenza del manifesto. Vediamo perché nella Coppa di Asia, oggi in Qatar, scende in campo la nazionale di calcio palestinese. Le mancano gli atleti uccisi da Israele e anche gli stadi usati dall'esercito di Tel Aviv come prigioni nella guerra di Gaza, che compie 100 giorni. Ieri il numero dei morti è salito ancora 23.843, aggiunge il manifesto. La stampa, farmaci e liste d'attesa, più povero un italiano su sei, la crisi sanitaria aumenta delle disuguaglianze. Poi sulle regionali, fratelli d'Italia, detta le condizioni, l'irritazione di Lega e Forza Italia. C'è un focus in Medio Oriente, 100 giorni di guerra, ecco perché oggi è impossibile credere alla pace. Chiudiamo anche il quotidiano torinese, andiamo a vedere il messaggero. Centro Italia, sale l'IRPEF regionale, tagli a stipendi e pensioni fino a 750 euro l'anno in Toscana. Nel Lazio saranno 140. Sulle partite IVA, via la pagella fiscale, si amplia il concordato, assegno unico più pesante, più 5,7%. Alex, ucciso a 14 anni, la pista della droga e il ruolo del patrigno, identificata la banda che ha sparato a Pantano. E si parla di una lite per lo spaccio. Il papà, perché mio figlio era lì, questo si è chiesto il genitore. I matti della patrimoniale, così titola in apertura, oggi libero, il vecchio sogno della sinistra. La Fornero invoca nuove tasse, puntando soprattutto sulle case. Ma in Italia di patrimoniali ne abbiamo già 11. Bisogna eliminarle, non aggiungerne altre. Il libero al sole 24 ore, bonus casa 2024, sconti, IRPEF e durata decidono i lavori dopo lo stop al 110%. Le agevolazioni ordinarie sono spesso più ricche del super bonus. L'alt alle cessioni, frena condomini, forfettari e redditi bassi. Ancora famiglie, corsa all'Isee per blindare gli aiuti. Il secolo d'Italia, questo quotidiano si occupa della patrimoniale, idea sinistra della Fornero. Fratelli d'Italia dice no. Di taglio basso, Foti, governo ha speso il 99% dei fondi disponibili. Lo sport sulla gazzetta, diavolo C6, vedete qui. Milan spacca Roma, scatto Champions. Adri, Giru, Teo, Mourinho futuro a rischio. Pioli, blinda il terzo posto, Olivero. E se davanti sbagliano, puntini di sospensione. In alto invece si parla, vediamo di spalla, Turam, Inter, ci penso io, missione Riad. E poi si parla anche della Juventus. Mentre in alto, fenomeni d'Italia, Yannick Sinner promette bene in Australia. Carletto è sempre Real, Carletto Ancelotti. Bene, con la gazzetta dello sport, come sempre terminiamo il primo appuntamento della giornata, ma oggi è lunedì, quindi diamo la linea alla regia e alla radiazione sportiva per gli highlights. Il campo basso batte 2-0 l'FC Matese, tutti i gol nella ripresa al nono del secondo tempo. Un grandissimo calcio di punizione di Maldonado per l'1-0 in favore dei Rossoblu. Il bis al trentaseiesimo sull'asse Grandis di Nardo, con quest'ultimo che insacca alle spalle del portiere dell'FC Matese, Campobasso a più 5 sulle seconde. Il Zora torna a vincere dopo un mese e mezzo, battendo 1-0 il vasto Girardi, nello scontro salvezza disputato allo Stadio Tomei per la diciannovesima giornata del campionato di Serie D Girone F. Il gol che deciderà il match con lo stesso Di Dio, che insacca a porta praticamente vuota dopo un tiro di Gubellini respinto dal portiere e sulla palla vacante si avventa il numero 9 bianconero a siglare il suo primo gol con la maglia del Zora. Passo falso casalingo dell'atletico Ascoli che inizia il girone di ritorno con una sconfitta per opera di un termoli abile a concretizzare nel miglior modo possibile le occasioni avute. Ma alla prima vera occasione il termoli passa. Su una palla inattiva dalla tre quarti il pallone arriva a Bursio che infila Pompei. Il gol del pari arriva meritatamente al 39esimo quando su un cross del difensore Feltrin, Clerici, uno dei più propositivi, gira di testa il pallone che finisce alle spalle del portiere molisano. La ripresa si apre con una sostituzione per il termoli. Ciao rimane negli sfogliatoi e al suo posto entra Usfar. La mossa di Mister Carnevale si rivela azzeccata perché è proprio l'attaccante classe 2005 a rompere nuovamente l'equilibrio capitalizzando al massimo una ficcante ripartenza dei giallorossi ospiti. Al 43esimo minuto il Boiano ha l'occasione più importante del match con il corner di Scozzari sul primo palo girata al volo di Perrella che dà solo l'illusione del gol e si spegne sull'esterno della rete. Invece nel secondo tempo l'occasione più importante è per il termoli con l'avanzata sulla sinistra di Celozzi che salta un uomo, crossa sul primo palo per impicciatore, tiro sotto misura, parato però da sacco. Il risultato finale tra Termoli Calcio 2016 e Boiano è di 0 a 0. Ottavo risultato utile consecutivo per il Guionesi che batte per 2 a 0 al comunale La Gioiese. I padroni di Pasa passano in vantaggio al 22esimo del primo tempo con Sivilla che imbeccato da Marino lascia partire una traiettoria imparabile che non lascia scampo a De Libero. Il raddoppio arriva nella ripresa con i padroni di casa che trasformano un calcio di rigore sempre con Sivilla, doppietta e 10 gol in campionato. Finisce 1 a 1 la sfida di Rotello fra Turris e Campomarino. Le reti nella ripresa, vantaggio ospite all'undicesimo con Cacchione. Il pari dei padroni di casa quattro minuti più tardi grazie al timbro di Perrotta. Lo spinete supera tra le muramiche il Forulum 2 a 0 con un gol per tempo al diciannovesimo a segno Stanislao Princic nella ripresa all'ottantasettesimo Cirenei sul traversone di Staffieri. All'appinto per la seconda giornata la Busso Chaminade ospita il Montenero. Vediamo gli alessi del match, succede tutto nella prima frazione di gioco. Terzo minuto, Montenero in vantaggio. Azione d'angolo e tocco vincente sotto porta di Masci Longo 1 a 0. Minuto 36 pari Busso Chaminade con questo gran tiro sul secondo palo di De Santis. Busso Chaminade, Montenero termina 1 a 1. E adesso è veramente tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.